vuoi andare già? e poi? dai ragazzi su dai ragazzi su spingi ragazzi dai ragazzi spingi mamma mia spingi 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 vai ragazzi su fammi vedere un salto lungo no ma come no ah che lì non succede niente stai regata oh così vai su vai ma ci puoi andare pure i grandi